Cassugana si appresta a sperimentare l'orario continuato. Viste le ripetute richieste provenienti dai cittadini, il Comune di Treviso ha deciso di tenere aperto l'ufficio anagrafe dalle 8.30 fino alle 17.15. Per ora si tratta di un test che prenderà il via da settembre limitatamente al mercoledì. Se la risposta degli utenti sarà elevata, l'apertura dell'ufficio anagrafe ad orario continuato sarà estesa ad altri uffici e giorni della settimana. Sono numerosi infatti i cittadini che a causa dell'orario di lavoro concomitante non possono rivolgersi agli uffici del Comune per ritirare un certificato, la carta d'identità. La richiesta di estendere l'apertura degli uffici anagrafe trevigiani è partita da un consigliere comunale del PDL ed è stata subito accolta dalla Giunta. È una mozione che nasce da istanze di alcuni cittadini che si sono avvicinati a me chiedendomi la possibilità di aprire gli uffici pubblici in particolar modo quelli dell'anagrafe nel cosiddetto periodo della pausa pranzo. Quello che sottolineo è che in un momento di crisi come questo, di crisi economica, questo è un segnale forte del pubblico nell'andare incontro al privato, evitando al privato cittadino di dover prendere dei permessi per recarsi, per recarsi agli uffici, presso gli uffici a fare determinati documenti. Quindi questo è veramente un segnale forte che toglie al privato cittadino e all'azienda del lavoratore dei disagi che potrebbe avere nel momento in cui siano costretti a concedere dei permessi. Cassugana fa sapere che la giornata di orario continuato non comporterà alcun onere finanziario aggiuntivo né l'incremento dell'organico o dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. L'unico problema sarà quello di un po' di turnover, nel senso che i dipendenti normalmente cessavano alle 14 e riprendendo alle 15 ci sarà qualcuno che si assenterà un'ora prima per pranzare e poi coprirà subito l'opportunità di avere l'orario continuato.